Ciao, sono Mastro di Porta. Sono qui per sfatare quelle brutte voci su Halloween, anche perché questa la chiamiamo dolcetto e scherzetto. Iniziamo. Halloween. La festa di Halloween ha origine molto antiche. Affonda le sue radici nella cultura celtica. Gli antichi celti, infatti, festeggiavano con riti e sacrifici di animali all'inizio del nuovo anno, il primo novembre, giorno che coincideva con la fine della stagione calda. E l'inizio della stagione fredda, la fine dei raccolti e l'inizio dell'inverno. Un motivo ricorrente nelle antiche feste di inizio di un ciclo annuale. E' la credenza che in quei giorni i morti ritornino sulla Terra con lo spirito benevolo o tremento. L'usanza di travestirsi nel giorno di Halloween nasce dalla tradizione che i celti avevano di festeggiare, mascherandosi con le pelli degli animali uccisi per esorcizzare e spaventare gli spiriti. Nella tradizione celtica le fate erano spiritelli ostili e pericolosi, che nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre facevano scherzetti agli umani per attrarli nella loro terra e catturarli. Per guadagnarsi il favore delle fate, allora i celti offrivano cibo o latte in dono, per evitare i loro scherzetti. Ma per il continuo ci vediamo tutti il 31 ottobre per Halloween. Grazie.